Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito gli argomenti che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. Bilancio Covid-19, strage di viareggio, mozione unanime presentata in aula. Dal bilancio del 2020, anno della scoperta e della lotta al Covid, alle prospettive per il 2021, anno nel quale la battaglia contro il virus prosegue. Questo è il primo argomento che affrontiamo nella puntata di oggi. Sentiamo in merito gli interventi del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e di alcuni consiglieri. Devo dire che se oggi noi siamo la regione con il più basso indice di trasmissibilità, lo dobbiamo sicuramente alle azioni messe in campo dall'amministrazione regionale, ma anche e soprattutto alla responsabilità delle cittadine e dei cittadini della Toscana che io voglio ringraziare perché abbiamo rispettato le regole, siamo riusciti a seguire le cose che ci eravamo detti di fare, distanza, mascherine, lavarci le mani in continuazione. Però non basta, io rilancio lo stesso appello che ho fatto qualche settimana fa. Fino ad oggi i numeri ci danno ragione perché ognuno di noi ha fatto la sua parte. I cittadini hanno fatto tanto, stanno vivendo ormai da dieci mesi in condizioni difficili, ma se vogliamo vedere la speranza, se vogliamo vedere una nuova ripartenza, da un lato noi continueremo a spingere sul piano dei vaccini, dall'altro però vorremmo chiedere un ultimo sforzo ai cittadini perché bisogna purtroppo arrivare ad aprile, maggio e senza l'aiuto di ciascuno di loro tutto diventerebbe più difficile. Una battaglia, quella con la pandemia che prosegue ormai da quasi un anno, dobbiamo continuare a stare attenti ma allentare anche le maglie delle possibilità per quanto riguarda l'attuale crisi economica e quindi dare qualche opportunità in più. Quello è quello che chiede Italia Viva, lo chiediamo perché riteniamo opportuno cercare di, da una parte, accelerare sui vaccini, investire sulla cura. Serve un investimento importante per fare in modo che la cura possa arrivare quanto prima per fare un combinato disposto. I vaccini insieme alla cura devono essere due armi da usare insieme per tornare a una normalità. Ci siamo dati in obiettivo quello di resistere ancora un paio di mesi per poi dal mese di aprile magari riuscire a ripartire in una normalità che ormai le persone sembrano quasi non attendere più. Intanto un dato positivo, la riapertura delle scuole in Toscana è un segnale importante, l'abbiamo chiesto con forza. Io personalmente e il mio partito in Toscana hanno fatto una battaglia importante, le scuole sono state riaperte. Questo è un motivo di orgoglio per la Toscana. In questo momento dobbiamo cercare di dare altri segnali di fiducia per la ripartenza economica e sociale, velocizzare i vaccini e investire molto sulla cura e consentire, diciamo, fra un paio di mesi alle persone di tornare a una sorta di normalità. A un anno dalle prime scoperte del Covid si può dire che il sistema ha retto, ha reagito, anche se ovviamente è stato un anno complicatissimo che ha messo a dura prova, a dura stress tutto il sistema sanitario, soprattutto dello territoriale ospedaliero e che comunque ancora non ha finito di preoccupare noi e tutto il sistema perché noi abbiamo visto negli altri paesi europei in corso una terza ondata importante, in particolar modo in Inghilterra e in altri paesi e quindi ora sono le settimane nelle quali noi bisogna prestare tantissima attenzione. Certo, i dati attualmente sono buoni, fanno sperare che ancora non ci sia un effetto della pausa natalizia che è il timore che tutti avevamo, anche se è presto ancora per dirlo, ma comunque abbiamo di fronte ancora diverse settimane invernali. Sappiamo che questo è il periodo per il virus di maggiore propagazione e quindi l'attenzione deve essere assolutamente massima, anche perché non si deve inficiare la vaccinazione che è in corso. Si è iniziato all'insegna della speranza, all'insegna della speranza di poter tornare presto alla normalità. Ancora mi sembra purtroppo non siamo nell'ultimo tratto del tunnel. Già il fatto che alla fine di questa galleria si intraveda della luce lascia ben sperare, le regioni in zona gialla fanno ben sperare. Oggi leggiamo e parliamo con operatori commerciali, con lavoratori studenti che ancora chiedono la normalità ma che già si sentono in qualche maniera risollevati alla zona gialla. Speriamo di poter arrivare quanto prima, perlomeno a vedere la fine del tunnel. Sicuramente fare di più si poteva. Chi è che può dire di aver fatto tutto bene? Però devo dire che anche i risultati, prendendo i numeri, sono risultati efficaci rispetto alle altre regioni. Per cui abbiamo assistito poc'anzi all'assessore Bezzini che ha dato delle cifre aggiornate a oggi stesso e dei numeri che sono abbastanza tranquillizzanti. Certo, il Covid non si chiamerebbe pandemico se non fosse un qualche cosa che ha messo veramente a rischio la popolazione sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico. Per cui per batterlo mancherà ancora del tempo, ci vogliono ancora quelle piccole attenzioni che tanto piccole non sono ma che comunque sono necessarie, quindi di distanziamento sociale, i gel disinfettanti, lavarsi le mani, la mascherina e quant'altro. Gli anticorpi monoclonali potranno essere sicuramente un qualche cosa di aiuto ma inevitabilmente sarà il vaccino quello che potrà eradicare completamente il virus e ve lo dico da medico che ho studiato la storia della medicina e nella storia della medicina ci sono state delle pandemie completamente eradicate dal vaccino. Siamo in una situazione straordinaria, nessuno poteva prevedere quello che è successo, questo si è detto all'inizio. Adesso probabilmente siamo anche di fronte a delle mutazioni del virus perché quello che abbiamo fatto finora ci accorgiamo che non è sufficiente. Le restrizioni, tutti gli accorgimenti che lei ha citato, mascherine, gel, non impediscono comunque alla curva di rimanere sempre stabile, cioè non c'è una netta diminuzione dei contagi. Quindi probabilmente mi domando e ci domandiamo un po' tutti è forse arrivata una mutazione del virus sullo stile di quella inglese che è più contagiosa. Ecco, questo non lo sappiamo, in questo momento non mi sembra che ci siano dati di questo tipo a riguardo. Certo è che io per quanto mi riguarda credo che le misure che sono state attuate fino ad ora siano state corrispondenti alla situazione del momento e cercando di modulare da una parte le restrizioni dei cittadini ma dall'altra anche le necessità di un'economia che sta veramente soffrendo. Per cui io, piena fiducia nel governo nazionale, vedo che a parte i primi intoppi anche la regione toscana sta dirigendosi verso un'adeguata reazione. Mi riferisco soprattutto alla capacità che ha dimostrato di poter riaprire anche le scuole superiori organizzando i trasporti in modo dilazionato. Per cui noi dobbiamo soltanto a questo punto concentrarci e operare per una vaccinazione di massa che sia il più possibile tempestiva. Vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime della strage ferroviaria avvenuta a Biareggio il 29 giugno del 2009 ma anche una richiesta di impegno alla Giunta regionale affinché sostenga le iniziative dell'Associazione dei Familiari delle Vittime e promuova nei confronti del governo e della conferenza Stato-Regioni la richiesta di revisione dell'Istituto di Prescrizione nei procedimenti giudiziari riguardanti reati gravi. Questo è un altro degli argomenti che è stato affrontato in aula nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale una mozione unanime presentata appunto in aula. Sentiamo gli interventi di alcuni consiglieri. La scelta di votare tutti insieme un atto in questa direzione un atto che esprima preoccupazione per quello che è accaduto a Roma negli scorsi giorni è segno di intelligenza, è segno di capacità da parte del Consiglio regionale di sapere intercettare il sentire dei cittadini. Quindi noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il governo, verso la conferenza delle regioni al fine di favorire una riflessione circa l'Istituto della Prescrizione per i reati gravi quelli colposi come è avvenuto a Viareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. Noi già altre volte siamo usciti con atti condivisi da questo Consiglio regionale e anche qui c'era un nostro atto, un atto del PD e abbiamo deciso di farne uno unitario per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime della strage, a tutti coloro che da sempre cercano la verità e chiedono semplicemente che quanto successo a Viareggio non si verifichi più. La Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente nel nostro atto quindi abbiamo deciso questa volta di chiedere che in conferenza Stato-Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi, l'omicidio colposo perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità e chiedono, ovviamente nessuno riporta indietro i loro familiari. Però chiedere, l'hanno sempre fatto con forza tramite le associazioni che fatti similari non accadano più e che quindi si prendano tutti i provvedimenti per non farli accadere, debbano essere dalle istituzioni sempre supportate in ogni sede. Questa è la voce che arriva da questo Consiglio regionale anche qui in modo del tutto univoco perché non c'è differenza di colore ma c'è semplicemente la difesa e la vicinanza a un territorio che ha bisogno anche delle istituzioni. Io sono abituato alle sentenze rispettarle e non a commentarle. Sicuramente arriva una sentenza che non è quella che noi principalmente come istituzione ci aspettavamo ma penso che i familiari e i congiunti delle vittime non si aspettavano. È una sentenza che a mio modo di vedere non rende giustizia a chi ha perso la vita quella notte a Viareggio ma ovviamente non ho gli elementi io per poterla confusare. Se dopo tanti anni si arriva a questa conclusione evidentemente chi è arrivato a questa conclusione ha avuto la possibilità di arrivarci resta l'amarezza, resta l'amarezza in dubbia di tutti i toscani al di là della collocazione politica, al di là dell'avere o meno dei congiunti degli amici, dei familiari quella notte nella strada di Viareggio è una sentenza che lascia la mano in bocca. È stato redatto un documento che ho firmato perché lo condivido appieno è una sentenza vergognosa che non ci saremmo mai aspettato soprattutto per il dolore di questi familiari che hanno visto morire per la seconda volta i propri congiunti. Ecco io conoscevo molti di quelle persone che sono morte perché erano miei vicini di casa e quindi sono particolarmente colpita da questa sentenza e la ritengo veramente ingiusta. I morti non possono andare in prescrizione e questo deve farci capire una volta per tutte che la prescrizione deve essere abolita soprattutto nei casi in cui ci sono delle persone che muoiono. A mio avviso non dovrebbe proprio esistere mai dal momento che viene reso noto un reato e si inizia un procedimento dovrebbe sempre fermarsi però ha maggior ragione in questo caso. Credo che non ci siano veramente parole per esprimere il disappunto e la vergogna come cittadina rispetto a questa sentenza. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista Cronache e commenti finisce qui per questa settimana Appuntamento alla prossima puntata.